A me è capitato in mano il volantino relativo alla tua campagna elettorale. E qui sulla seconda pagina io sono rimasto sorpreso perché se parla della proposta di approvare il bilancio senza il parere dei revisori sarebbe stata un'operazione di facciata e alla fine concludi. Ancora una volta a scapito dei cittadini una copertura per quei dirigenti che non avevano fornito i documenti necessari. Ora naturalmente si parla dei dirigenti del comune di Frascati però io il comune di Frascati non lo conosco perché vengo ai consigli comunali. Però come funziona la macchina io non lo riesco a capire. Allora avrei voluto fare la domanda a piazza del mercato però mi è stato democraticamente impedito. E allora io colgo l'occasione della tua disponibilità per parlare di questo problema.